Torniamo a parlare di mercato, torniamo quindi a parlare di Vladimiro Falcone, abbiamo visto anche nella giornata di ieri la volontà del club blu cerchiato di contro riscattare il portiere in forza a Lecce durante questa stagione, è arrivata la conferma, 4 i milioni di euro sborsati dal club blu cerchiato, quindi Vladimiro Falcone sarà a tutti gli effetti un calciatore blu cerchiato a partire dal prossimo 1 luglio. Questo non esclude la permanenza di Milaudero, anche se Fiorentina ed Empoli stanno già spingendo per portare l'estremo difensore blu cerchiato in Toscana. Per quanto riguarda l'attacco, Manolo Gabbiadini è fortemente richiesto da Claudio Ranieri, lo conosce, l'ha già allenato, quindi sarà da decidere il futuro dell'attaccante blu cerchiato. Nel frattempo abbiamo visto anche la conferma del secolo durante questa mattina, la Sampdoria ha saldato regolarmente tutti gli stipendi, quindi parteciperà al campionato di Serie B 2023-2024.